Sì, io sono un asfino, mi rivedo in fascia la bella patina Lo stesso gioco, così per caso, si rimarrò a me ripiando le tasche Ho 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 Senti, ragazzi, non ci posso chiedere, tutti ci davvero? Tutti? Non c'è ancora qualcuno! Davvero? Ma così, non ci credo! Pronti? Ragazzi, viva la vita che la musica basta! Succedete una cosa bellissima che neanche voi sapete cosa sta... L'esplosione! Andiamo! Speriamo a capire! Perché? Adesso, dove? Perché? Non so, 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 non so! Succedete! 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 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12. Totti un applauso la Sony! Cheggapero. Puoi! Grazie a tutti! Allora vogliamo accendere tutti i telefonini! Vai su, forza! Tutti i tuoi telefonini! Non c'è niente di avere un'amica di telefonino! Forza! Forza, forza! Che emozione! Pronti? Così! Adesso, io con il mio canale! E' così, la mia 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 toglione! Così! La casa mi ha torito, vai, vai! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.